A lungo considerate semplici spuntini da bar, le tapas spagnole, l'equivalente dei cicchetti veneziani, sono state reinventate dagli chef stellati, passando di diritto dal caffè di quartiere al regno dell'alta cucina. Al mercato di San Miguel a Madrid se ne trovano per ogni palato. Le tapas sono una cosa molto tipica della Spagna. Si mangiano prima di andare a cena, con una birretta o un bicchiere di vino. Servono a stuzzicare l'appetito. È un modo per socializzare con le altre persone, un modo per parlare, per chiacchierare. Le tapas risalgono al Medioevo. Al tempo si trattava di fettine di pane e companatico, che venivano usate per coprire tazze e boccali in cui si serviva vino. Negli ultimi 15 anni queste tartine hanno subito un'evoluzione incredibile, con i più grandi chef spagnoli che le hanno praticamente reinventate e alcuni di loro hanno aperto direttamente dei tapas restaurant, sposando la buona cucina con lo street food. Sergi Arola, chef con due stelle Michelin. Tutta la nostra generazione è stata coinvolta nel mondo delle tapas, migliorando nella reputazione e aprendo nuovi ristoranti specializzati. La città di Valladolid, nel nord-ovest della Spagna, ospita perfino una gara internazionale di tapas. Le scuole di cucina, invece, offrono workshop di tapas creative, per insegnare ai clienti come prepararseli a casa. Secondo lo chef Arola, tuttavia, bisogna stare attenti ai rischi, perché se cominciamo a servire tapas nei fast food, si finisce per venire screditati.